Imbarazzo per Maria Grazia Cucinotta, l'attrice che ancora oggi resta una delle donne italiane più celebri al mondo. Eppure, c'è un punto dove la celebrità deve fermarsi, ovvero la legge. Lì non c'è fama a chi tenga. Proprio l'attrice ha dovuto saporare la conferma di questa verità negli ultimi giorni, dopo essere stata protagonista di una vicenda che porterebbe chiunque a prendersi a schiaffi, forse per un eccesso di distrazione. La cucinotta era infatti sbarcata in Cina, testimonia della compagnia di bandiera nostrana l'Italia e proprio in Oriente, ma una volta arrivata Pechino ha dovuto accettare l'amara constatazione di dover tornare indietro, rispedita a casa dalle autorità per un motivo più che logico. Il suo visto era scaduto. Situazione che ha creato non poco imbarazzo alla delegazione italiana presente sul campo, recatasi a Pechino per inaugurare proprio il primo volo all'Italia diretto da Roma-Pechino. A bordo c'era anche il ministro della cultura Dario Franceschini, che ha assistito proprio alla SCN dell'ingresso negato all'attrice in virtù del suo visto non più valido. Lei ha tentato di minimizzare la situazione. Nessun problema, era già previsto che rientrassi subito perché sto girando film e non potevo bloccare il set e poi dovevo raggiungere i miei in vacanza. Eppure è stata portata avanti una lunga e tempestiva trattativa per lasciare entrare l'attrice in Cina, il che significa che, di fatto, non fosse poi così previsto il suo rientro lampo. Atterrata alle 6.20 di martedì a Pechino, alle 9.30 ora locale e salita sul volo che l'ha riportata a Roma, dove è atterrata martedì alle 14.25. Un inconveniente diverso, ma ugualmente bizzarro, sempre relativo a questioni aeroportuali, è accaduto a Francesco Facchinetti pochi giorni fa. L'attore, diretto a Milano, è stato fatto salire su un volo diretto verso un'altra destinazione, ovvero Amsterdam, con una compagnia completamente diversa da quella scelta. Dopo aver dormito per tutto il viaggio, il conduttore ha aperto gli occhi chiedendo ad un vicino dove fossero, con la risposta sorprendente. Lui ha raccontato poi l'odissea sui social. Chi se ne frega!